Sul riccio di Girifalco non aggiornata, Girifalco Chiaravalle e vittoria del Girifalco per 3 a 1. Siamo con il tecnico del Chiaravalle, Macri, a cui chiediamo dopo un primo tempo equilibrato, finito giustamente sull'uno a uno con varie occasioni da una parte dall'altra, nel secondo tempo è arrivata la sconfitta, ci è sembrato dopo un calo fisico che si è visto nella sua squadra. Sì, diciamo che la nostra squadra ormai soffre di mal di trasferta, non riusciamo a invertire questo trend negativo fuori casa, quindi ci dobbiamo un po' rimboccare le maniche, lavorare su questo perché come ha detto lei il primo tempo ha giocato ottimamente la nostra squadra, ha messo in campo in modo quasi perfetto direi. Siamo andati in vantaggio, abbiamo sprecato 3-4 volte l'occasione per raddoppiare, poi sul finire il primo tempo loro hanno trovato il pareggio, poi noi siamo calati secondo me più a livello mentale che a livello fisico. Poi alla fine Girifalco sul proprio campo ha cercato la vittoria fino alla fine e ci è riuscito, peccato. Non le sono bastate neppure Iozzo e Maida? No, vabbè, Maida e Iozzo sono due elementi di grande esperienza, però vengono entrambi da diversi problemi fisici, quindi ancora non sono al top, non possiamo pretendere di più. Sul finale pensavamo di sfruttare la loro esperienza, magari anche sui calci piazzati, la loro bravura su questo, ma non è andata bene. Siamo con Vincenzo Ferraina, il centrocampista dell'Euro Girifalco, finalmente è arrivata la seconda vittoria in casa dopo quella dell'esordio con il Tropea. Sì, è stata una partita un pochettino al primo tempo, qualche disattenzione ci ha fatto prendere un gol, siamo stati brevi a pareggiarlo 1-1 il primo tempo. Nel secondo poi è stata una partita maschia, abbiamo tenuto botta, abbiamo trovato due gol, il rigore su Dara, bravissimo, sulla fascia, abbiamo trovato questo ragazzo nel 18, brevemente bravo. Ci serviva la seconda vittoria in casa dopo il 5-1, mirabolante, col Tropea, 5-2 scusate, 5-2 col Tropea. E il terzo risultato utile consecutivo. Se continuiamo così magari possiamo dire la nostra in questo campionato. Con questa vittoria avete superato proprio il Chiaravalle in classifica e vi ponete in una situazione di classifica abbastanza tranquilla. Per il momento dovete continuare in questo modo. Se continuiamo così noi il nostro obiettivo è ovviamente la salvezza il prima possibile, poi quel che avviene noi cerchiamo di prenderlo, è così.